Buongiorno ragazzone e ragazzuoli, sembra che mi ero dimenticata dei video estivi, ma in realtà non è che mi sono dimenticata è che ho avuto veramente pochissimo tempo per mettermi a fare dei video, però giuro che recupero, ne girerò tipo 50 di fila così dopo li sbatacchi tutti uno dietro all'altro, così dopo proprio vi mando in panico totale Ho pensato che magari alcuni di voi quest'estate non vanno in vacanza Ogni tanto capita che purtroppo per motivi lavorativi, di studio, per motivi economici non si riesce ad andare in vacanza per cui si va in vacanza ma si non sta in casa praticamente, già si fanno nella casa proprio le vacanze per cui non è per forza un motivo di stristezza Qui mi sono detta che fate voi che state a casa, ok uscite magari con gli amici, andate in piscina se vi piace la piscina, se ho dietro la piscina però già più un casino, se i vostri amici sono via potete andare alle feste delle birre che sono sempre tipo la cosa che preferisco ed estate cioè per me d'estate la festa della birre è tipo il top perché non c'è il dress code capito? Vai là proprio vestito male, no? Però vai vestito come ti pare bevi, mangi, rutti, insomma la cosa più bella del mondo, la festa della birre non si fosse capito Sono andata a ripescare quelle estati passate per esempio a Milano per via di lavoro sono state proprio delle estati che ho amato follemente come si può intuire perché a Milano non fa caldo, fa di più cioè praticamente il suolo ti risucchia dal caldo che fa e mi sono messa a pensare, sono andata a spulciare i libri che ho letto in quelle affose estate milanesi, mi sono accorta che ho letto dei libri che erano di una pesantezza disumana cioè io ero di una pesantezza disumana probabilmente in quell'epoca, non lo so, è che un'estate io lavoravo in teatro a Milano quello che vi ho già nominato che è la biblioteca in via senato e per cui forse presa dal vortice che dice la biblioteca mi sono dedicata a dei mattoni che io non avevo mai letto fino ad allora e poi vicino a dove abitavo c'era la libreria dei Reminders che è in corso 22 marzo a Milano è tipo verso la fine, cioè per me era verso la fine perché abitavo dalla parte opposta verso Piazza Cinque Giornate per intenderci, sul lato, se avete davanti Piazza Cinque Giornate sul lato destro della strada, comunque è figa quella libreria se ci volete andare penso che si sta ancora tra l'altro e venne un sacco di libri e così ho fatto un po' incetta di romanzi e di libri allora vi parlo subito di quelli che ho letto proprio tranquillamente all'epoca quella che recuperai, adesso ve lo prendo, questo che è il grande classico della letteratura italiana perché io volevo leggere i Vicere di Federico De Roberto che mi ispirava tantissimo perché avevo appena letto un altro romanzo sempre ambientato in Sicilia e allora lì me l'ho detta ma la devo andare a parlare di Vicere, no? Vicere è un po' saga familiare anche questa, parla comunque molto della storia dell'epoca per cui vi deve piacere anche un po' l'Italia, stavo dicendo il rinascimentale perché sono una ragazza intelligente, risorgimentale magari e vi deve piacere un po', fa un po' tipo i Buddenbrock, no? cioè come famiglia per dire, questo clima un po' all'Anna Carienina non per via della storia dell'amore di Anna Carienina un po' per il fatto che racconta di tutti questi personaggi di questa famiglia di tutte le loro magagne, di tutti i loro entrallazzi, delle sfighe e vi dicendo cioè, è da una parte appunto storia di questa famiglia che nobile, chiaramente, è la Sicilia dell'epoca e da una parte è comunque storia sociale, politica dell'epoca ed è un romanzo che mi è piaciuto veramente tanto non credevo sinceramente perché io parto un po' prevenuta quando si parla di romanzi italiani perché non ho mai avuto delle grandissime esperienze con i romanzi italiani soprattutto quelli di una volta non sono una grande fan di Verga, Manzoni e quant'altro per cui avevo un po' l'apprensione, in realtà a me era piaciuto tanto e come vi ho detto l'ho letto perché avevo appena finito di leggere questo Il Gatto Pardo di Tomasi Lampedusa che è uno dei miei romanzi preferiti in assoluto fate conto che io dico sempre e ormai lo sento tutti quelli che mi conoscono che se dovessi avere un figlio maschio lo chiamerò Tancredi per cui sì, questo per dire che è veramente uno dei miei romanzi iper preferiti anche il personaggio dell'Angelica mi piace tantissimo il film di Lucchino Visconti è bellissimo quello con Alan Delon, Bart Lancaster e Claudio Cardinale è meraviglioso il romanzo mi piace tantissimo e tra l'altro quest'anno quando è capitato che un ragazzino dovesse appunto fare una comprensione del testo su un brano del Gatto Pardo che è uno dei brani dell'inizio lo potrei citare quasi a memoria ho detto oh mio dio il Gatto Pardo che bello ma non ve lo fanno leggere che è una cosa odiosissima perché in realtà è il Gatto Pardo non di quei romanzi che di solito fanno leggere a scuola per cui magari la maggior parte di voi lo odia a morte proprio in virtù del fatto che mi hanno obbligati a leggerlo io invece l'ho letto che appunto avevo 23 anni quando ho finito l'università praticamente l'ho letto e boh forse proprio per questo perché l'ho deciso io di leggerlo e mi ha preso tantissimo mi ricordo che lo leggevo in pausa pranzo nel parco che c'era lì di fianco appunto dove lavoravo e era proprio bello e tra l'altro non è molto grande vi dirò che comunque come vedete è piccino però è molto denso di notizie dei personaggi mi piacciono poi tantissimo tutti quanti i personaggi come li racconta per cui voi non pensate a quel romanzo magari vecchio e palloso e barboso che vi racconta di politica e ha magari un linguaggio un po' astruso un po' vecchio che non si sente più voi vi immergete proprio completamente in questa storia familiare di rivoluzione e nel personaggio di Tancredi che è quello un pochino più testa calda però forse neanche tanto che dopo quando si innamora mette la testa a posto nel senso che anzi forse perde ancora di più la testa poi c'è proprio il personaggio il protagonista che è questo principe Fabrizio Salina bellissimo è un romanzo meraviglioso e sì io odio il fatto che lo consigliano nelle scuole perché penso che ti fassi la voglia di leggerlo c'è sempre lo stesso discorso che non lo so però forse per me si sposi se lo facessero se non ti obbligassero a leggere forse lo apprezzeresti anche forse dico forse perché non credo che lo apprezzerei comunque perché io ogni tanto vedo che i ragazzini di da me lo studiano ma io non ho mai avuto la spinta a dirgli leggere uno e si sposi in virtù del fatto che io odio follemente con tutta l'anima e il cuore e speravo che crepasse ma non è successo Lucia Mondella proprio mi sta sulle palle in una maniera impressionante Renzo no non so un figo ma Lucia mio Dio mio Dio ma anche se moriva mi faceva favore vabbè un altro romanzo che ho letto tra l'altro sempre quell'estate lì e che adesso non ho qua fisicamente perché devo andare a recuperare a casa dei miei è Uomini che odiano le donne di Stiglarsson che io penso di avervi già nominato da qualche altra parte sicuramente che iniziai a leggere proprio perché tipo l'avevano letto in tantissimi e era leggermente passato di moda perché mi ricordo era uscito l'inverno prima per cui sotto Natale e avevo fatto passare qualche mese poi non mi ricordo se me l'avevano prestato non mi ricordo come ha funzionato questa cosa perché l'edizione che ho letto io è l'edizione proprio quella della Marsiglio non è quella che dopo ha comprato mia madre per esempio per cui non mi ricordo come ho avuto in mano quell'edizione forse lo preso in biblioteca può anche essere quello e devo dire che anche quella mi ha preso tantissimo proprio per il fatto che magari d'estate vi servono letture non per forza leggere soprattutto magari state a casa sono depresso perché addio sto a casa a parte che magari alcuni di voi a casa ci stanno benissimo perché dicono guarda ho due settimane di fene ma attacco la televisione recuperare tutti i film tutti i libri cioè attacco la televisione recuperare tutti i film e telefilm e mi siedo sul divano recuperare tutti i libri che mi sono perso per cui ti è altro che vacanza chi se ne frega per cui può essere anche quello assolutamente anche bisogna essere depressi però magari avete bisogno comunque di libri un po' pregni un po' densi che vi prendano con la storia per cui cazzo niente letture leggere ma prenderevi dei romanzi che vi pigliano che vi ingabbiano completamente e voi volete leggere tantissimo e volete sapere come vanno avanti per cui per questo vi dicevo uomini che odiano le donne per me ha quel pregio hai il difetto che è un po' cioè si perde ogni tanto nel senso che vi fa l'introduzione di una storia poi ve ne racconta un'altra poi ritorna quella della prima ci mette 20 anni per entrare un attimino nella storia del giallo dopo quando però entrate nella storia del giallo a lei dopo non riuscite per smettere di leggere finisce quella storia lì riprende la seconda storia per cui è un filino intrecato il primo forse da quel punto di vista il secondo l'ho trovato un attimino più fluido perché io ho letto soltanto il primo il secondo il terzo ancora non l'ho letto però comunque per quanto riguarda il giallo in sé cioè la storia in sé della scomparsa appunto di questa nipote di questo patriarca della famiglia Vagner è meravigliosa per cui io è un giallo che è veramente piaciuto tanto non ho capito tutta questa come dire fomentazione che ci fu all'epoca del fatto oh mio dio dei gialli migliori mai scritti questo non ne sono convinta vi dirò cioè si è un bellissimo giallo ma non è quel genere di giallo il più bel giallo mai scritto non lo so perché poi non sono una fan del giallo per cui no però sì sicuramente è un bellissimo romanzo tra l'altro esiste anche il film ne è cazzo anzi due film perché esiste la versione quella nordica con dietro io ho visto tanto quello di The Fincher per cui non so come siano gli altri anche se me ne hanno parlato abbastanza bene ecco sempre parlando di storie belle intricate di zozzerie varie un anno io ho lessi questo l'anno dopo forse che ero a Milano ve lo direi anche nel 2010 questo l'avevo preso da aprire ma mi ricordo l'ho letto d'estate che è La famiglia La famiglia di Mario Puzzo che in realtà era morto mentre stava scrivendo questo romanzo per cui è stato terminato da sua moglie ed è un romanzo sui Borgia cioè Mario Puzzo è famoso perché è quello che ha scritto appunto la saga del padrino romanzo che tra l'altro vi straconsiglio nel caso perché è veramente meraviglioso e ha scritto anche questo libro su la famiglia Borgia sicuramente è un romanzo che prende molto cioè si sente che c'è dietro Mario Puzzo però si capisce anche se avete letto il padrino che non l'ha proprio scritto completamente lui perché il padrino aveva leggermente un altro stile mi è piaciuto molto cioè è molto interessante sicuramente vi prende molto non mi è piaciuto tantissimo come è andata con i personaggi cioè il delineamento dei vari personaggi cioè forse è stato un pochino troppo leggero come mano cioè poteva un attimino approfondirgli di più oltretutto ci sono cioè se voi cercate un romanzo in cui ci siano un po' tutte tra virgolette le leggende metropolitane sui borgia ecco è questo nel caso proprio ci sono dentro tutte voi pensatene una tac sicuramente c'è dentro comunque si è c'è il lavoro pagato una stupidata questo qua neanche 6 euro e questo penso che sia abbastanza facilmente reperibile dal tutto l'ho visto su 8000 bancarelle per cui se non lo trovate in giro nel senso in libreria o online per me in bancarella lo trovate un altro romanzo che è Lessie e adesso vi spiego anche perché è Marco Visconti che voi direte ma che cacchio di romanzo è che è un romanzo che riuscite a trovare attenzione tipo se andate in qualche negozio del libraccio forse anche online sul libraccio lo trovate che è un romanzo vecchissimo che vendevano in un'edizione che se riesco vi metto una foto perché è troppo bella perché è un romanzo di Sissi in quell'edizione che non so che fine abbia fatto sinceramente però tant'è avevo quel romanzo lì Marco Visconti è un po' questa saga cavalleresca questo romanzo cavalleresco di cui attenzione avevano fatto una miniserie televisiva negli anni metà anni 70 se non mi ricordo male con Gabriele Labia ora voi dovete sapere che io ho una cotta per Gabriele Labia anche se potrebbe essere mio nonno non mio padre Gabriele Labia da giovane mi piace tantissimo mi piace anche Gabriele Labia di adesso sia un po' pigna in culo però anche molto colto molto intelligente siccome era il periodo appunto in cui lavoravo a teatro no non ho incontrato Gabriele Labia ahimè purtroppo però ogni tanto lo sentivo nominare perché chiaramente gira il chiettiri gira alla fine saltava fuori anche lui e vedendo delle interviste che avevo fatto lui su winter vabbè io già lo conoscevo Gabriele Labia però questa cosa che aveva fatto una miniserie Marco Visconti io non la sapevo e sono andata appunto poi a recuperare il romanzo no che appunto come vi dicevo cioè questa saga appunto cavalleresca con questo protagonista appunto Marco Visconti poi c'è il il nipote era di appunto Marco Visconti che è un po' il lancillotto della situazione che era Ottorino se non mi ricordo male che appunto era il personaggio di Gabriele Labia poi c'era l'innamorata no di lui c'erano tutti questi intrighi questo voleva sposare la sua innamorata c'era tutto un macello c'era dentro di storia storia d'amore poi c'era un po' cioè è un po' pesante dal punto di vista religioso perché pesa un po' questa cosa che loro dopo vanno tipo a combattere alle crociate no però è divertente come romanzo cioè se vi piacciono i romanzi cavallereschi un po' che delle vostre nonne per dire no con questa trama un po' appunto delle vostre nonne ne vale la pena se riuscite a recuperarlo perché è una lettura comunque boh che io ricordo di aver fatto con molto piacere e la serie della Rai forse la trovate direttamente online nel caso possa proprio interessarvi tantissimo c'era dentro anche Raffa Vallone e Pamela Villoresi se non vi ricordo male molti di voi diranno ma che cacchio stai a dire lo so anche Gabriella vi posso immaginare anche voi state dicendo ma che cacchio stai a dire però magari se alcuni di voi hanno visto Profondo Rosso se lo ricordano perché era Carlo l'amico del protagonista che era David Hemmings nel caso così vi spiego chi è Gabriella però lì era Gabriella nell'anno 70 adesso c'è un po' un'altra faccia comunque delle interviste sulle trovate sempre online l'essi anche quell'anno lì questi per me sono un casino a trovare ho già fatto una fatica a boia a trovarli questi tre libri adesso non sono in fila o forse sì no sono in fila il primo è La Bicicletta Blu il secondo si chiama Le Vigne di Montillac e il terzo questo poi Avenue Harry Martin allora questi in realtà non sono ne ah no sì no visto che non sono in fila perché questo qua in teoria è il terzo Le Vigne di Montillac porca miseria comunque questi tre romanzi che in realtà non sono tre ma dovrebbe essere sette otto credo ma comunque col terzo finisce nel caso sono dei romanzi francesi ambientati durante la seconda guerra mondiale e hanno protagonista questa ragazza Lea che è innamorata di Lohan che però si sposa con Camille non sto scherzando non un giorno veramente si chiamano così personaggi però sono francesi ovviamente c'hanno questi nomi solo che poi scoppia la guerra per cui Lohan parte per la guerra e Lea rimane da sola con Camille che è incinta se vi ricordo un altro famoso romanzo o un famoso film degli anni 30 americano con Vivian Lee e Clark Gable non vi preoccupate è normale perché alla Regine de Forge le fecero anche causa tra l'altro proprio per questo motivo perché la trama assomiglia un po' tanto a quella di Diapo il vento il primo romanzo che è la bicicletta blu assomiglia appunto a Via col vento in realtà se poi andate avanti nella lettura un po' questa cosa si stempina nel senso che assomiglia sempre meno alla questione di Via col vento più o meno diciamo che è una versione un po' più zozza di Via col vento tiè poi ci sono alcune dovute differenze però sì diciamo che quella maggiore è un po' questa un po' più zozzona rispetto a Via col vento è un mix tra romanzo storico il romanzo rosa un mix ci assomiglia un po' come Tony un po' ad Angelica forse Angelica era un pelo più acculturato rispetto a questo però devo dire che a me piaccherò molto oltretutto io li avevo presi cioè avevo presi piano avevo trovato la bicicletta blu su un mercatino dell'usato a Lodi perché mi ricordavo di aver visto la miniserie televisiva con Letizia Casta vabbè queste cose intelligenti che io ogni tanto guardo e la miniserie televisiva che era andata in onda sulla Rai ma non so quanti anni fa dopo ho recuperato il secondo e il terzo e praticamente la miniserie televisiva finisce appunto con questi tre volumi la miniserie televisiva è un po' edulcorata rispetto a quello che sono i romanzi questo per darvi il tono per darvi l'idea che i romanzi erano un po' non neanche porcelli però sì un po' zazzoli ma comunque sono carini nel senso se riuscite a recuperarle avete voglia sempre di una lettura che vi prenda tanto però sì questa sì questa è un po' più leggera rispetto agli altri romanzi di cui vi ho parlato cioè questo è il capitolo un po' mi vergogno a parlare sia di questo che del gattopardo a scostarli però è per farvi capire che io passo da leggere veramente un similarmony come questo a una roba tipo appunto il gattopardo i vicere e poi mi piacciono tutti perché non ho il senso critico probabilmente non lo so anche a me basta un romanzo mi prenda poi non è detto non è che può campare soltanto di Tommy ogni tanto ho bisogno anche di queste letture un po' leggerine qui questi sono i romanzi appunto che io vi consigliamo ma poi tranquilli perché come ho fatto anche per le letture al mare poi ve li inserisco tutti su una pagina nel blog così almeno riuscite a andarle a recuperare per quanto riguarda i film quello che ho pensato io è che siccome d'estate non esce praticamente un tubo perché d'estate non si sa perché il cinema qui in Italia è una cosa indecentemente indecente l'anno scorso deve essere rimasta su Maleficent per tipo 8 mesi non lo so una cosa pazzesca tanto a me non è neanche piaciuto comunque vabbè quello è il meno che non è che posso decidere io i film che stanno su quello che vi dico io è che esistono i cinema all'aperto l'estate per cui potete andare a recuperare tutti quei film che sono usciti magari quest'inverno che non siete riusciti appunto a vedere tipo che ne so Interstella Whiplash tipo potete andare a recuperare non me li sono segnati però che io quest'anno ho fatto un po' faticato a fare dei film che veramente mi piacessero e questo è stato un po' il problema per cui forse anche per questo che non mi vengono in mente questi sono diciamo quelli che ho preferito che sono usciti quest'anno perché poi i vari American Sniper Big Eyes e sto pensando finché hanno vinto l'Oscar per cui sto tentennando perché non mi ricordo neanche chi ha vinto l'Oscar quest'anno Still Alice allora Big Eyes e American Sniper non mi sono piaciuti Still Alice ancora non l'ho visto però me ne hanno parlato molto bene poi c'era stato Selma anche questo me ne hanno parlato molto bene per cui sai ci sono tutti questi film che sono usciti potete andare a recuperare più tutti i film che sono usciti anche con Cannes perché magari escono anche quelli e potete recuperare anche quelli io vi dico che quest'estate di sicuro tipo è appena uscito Terminator Genesys che però io non fisto esce adesso Ex Machina che voi dite ma che cacchio è c'è dentro Oscar Isaac voi zitti muto e andate a vederlo soltanto per Oscar Isaac anche se magari fa schifo non lo so perché ancora appunto non è uscito ce l'ho sul computer devo vederlo ho sentito parlare abbastanza bene di questo Babadoc infatti io chiedevo se qualcuno di voi l'ha visto mi faccio sapere se è vero che fa tipo una paura folle come si dice in giro esce il film sui Minions io non ho visto neanche Cattivissimo però c'è una mimica che me la sta proprio melando potentemente questa cosa dei film dei Minions per cui sì Michi adesso guarderò anche Cattivissimo così andiamo a vedere questo film in mezzo ai bambini perché tanto io non ho abbastanza dei bambini che li vedo tutti i santi giorni diciamo che il mio consiglio principale è di recuperare o dei film che è una vita che volete vedere soprattutto quei dei mattonazzi tosti e duri che io di solito faccio questo d'estate cioè mi dedico soprattutto al recupero dei filmoni pesanti o dei classiconi che tipo non vedo mai allora d'estate dico dai vabbè d'estate mi faccio nel male me li guardo o se no potete passare completamente alla sponda opposta e guardare i film horror e le commedie più orrende dell'universo perché tanto alla fine che volete fare d'estate è quello che si fa per quanto riguarda le serie televisive anche qui avete tanto tempo libero siete a casa recuperone delle grandi serie televisive degli ultimi anni per cui ci sono non so questa non l'ho vista però ve lo dico perché è quello che voglio fare io adesso i sovrano tipo tosta anche questa ci sta poi mi sono segnata The Walking Dead che anche questa ci sta c'è caldo zombie ci sta no? che poi magari capito caldo compaiono veramente i primi zombie almeno ho imparato un po' di cose da The Walking Dead Breaking Bad chiaramente perché anche Breaking Bad è sempre figa e ci sta sempre Sons of Anarchy quella ci sta veramente tutta insieme a Breaking Bad ci sta Dio The Shield che anche questa devono essere 6-7 serie se non mi ricordo male c'è Twin Peaks c'è capito tutte queste belle serie ciccione grosse possibilmente che sono finite così almeno non è che morite di disperazione perché dite allora a The Walking Dead allora non dovete consigliarvelo perché non è finita vabbè fate vita non ho detto niente di The Walking Dead recuperate tutte queste mega serie non c'è tipo vi comprate il cofanetto e ve le guardate tutte ah giusto Heroes potete recuperare Heroes perché dopo il 24 di settembre inizia Heroes were born per cui tipo almeno ve le guardate tutte e quattro le serie e forse guardarle di fila è utile perché effettivamente Heroes se vi guardate una puntata a settimana non si capisce un cazzo cioè arrivate che dite ma che cazzo sta succedendo poi ci sono altri classiconi della Madonna tipo non so tipo non so The Wire anche queste io non le ho viste però me ne hanno parlato benissimo questo cosiddetto ha un sacco di loro che non l'ho visto per cui magari ho visto consiglio delle cioffeche gigantesche che mi hanno mandato una mail minatoria e dicele ma che cazzo dici che non guardi le serie e poi le consigli pure per quanto riguarda la musica la Penny consiglia musica leggera non nel senso di musica leggera ma tipo Raul Casadei la sua banda a parte che nella saga della Biera è un classico quella purtroppo no in realtà non è vero la saga della Biera suona le cover band che cazzo sto dire e le Raul Casadei suono il mio paese quando fanno la saga dello spiedino o la saga dell'unità o la saga del PD non lo so qua fanno tutte queste saghe unità PD che nessuno ci crede in queste cose però ci fanno tutti perché ce la mangiare bene vabbè vabbè capito in Emilia cioè se tu vai queste saghe in Emilia devi capire che mangi roba tipo nei soliti tortelli ricotta e spinaci pissarifasò la torta fritta i spiedini quelli che fanno qua vicino a casa mia che mi fanno azzaro sono buonissimi cioè capito per cui la gente anche se non mi frega niente del PD magari uno è fascista però ci vado stesso perché si mangia lo spiedino buono che hanno i scemi voglio dire e mi fanno anche tra l'altro la pesca vabbè non mi frega un tubo perché magari non siete neanche nelle zone però per dire che comunque si dedicatevi a musica leggera dedicatevi alla musica preferita in questo caso non ho dei particolari consigli a darvi bene io vi saluto mi auguro che le vostre vacanze in città vanno tutte bene fatemi sapere chi di voi effettivamente rimane in città io vi mando un abbraccio o fatemi sapere se siete contenti o tristi di questa cosa perché o magari siete anche contenti come vi dicevo prima e fatemi sapere se c'è qualche altro romanzo o libro che voi consigliate per queste vacanze cittadine non città d'arte vacanze in città perché per le città d'arte consigli saranno degli altri perché magari qualcuno di voi va in vacanza e va a vedersi a città d'arte non so quanto vi invidio sinceramente in quel caso perché andare a città d'arte ad agosto con 97 gradi non so se è proprio il massimo però per dire vabbè oddio se andate in qualche città d'arte che piace anche a me non vi invidio lo stesso posso dirla questa cosa non lo so forse non si potrebbe dire vabbè io vi saluto e ci vediamo prestissimo ciao